buongiorno giovanni grazie grazie non nuovo la scrittura prima la storia e adesso un giallo sempre però con il filo conduttore dei sentimenti la domanda è la tua professione è una professione molto impegnativa dove lo trovi il tempo per scrivere intanto io rivendi intanto grazie ho sentito fuori studio le parole mi fanno sempre un po' imbarazzare questi complimenti ti ringrazio il mio lavoro c'è un aspetto insomma io mi definisco uno scrittore dilettante torniamo alla radice della parola dilettante non vuol dire soltanto che sei un po' scarso sportivo dilettante dilettante della domanda vuol dire anche che lo fai per diletto cioè non lo fai per lavoro che è una passione quindi lo fai perché ti piace quando una cosa ti piace il tempo si trova magari sacrificando i tempi del sabato delle domeniche durante le vacanze e così via e poi c'è un aiuto che mi viene un po' da sorella insonnia che non è un'insonnia totale però insomma ecco qualche sera ecco quindi è un aiuto sicuramente creativo l'amore non lo vede nessuno ne parliamo tra pochi istanti prima però perdonami c'è un rapporto di profonda amicizia con il presidente della repubblica che è un rapporto che parte da lontano c'è un fatto curioso c'è un fatto particolare ovviamente nessuno pensava una cosa già che io ho frequentato ovviamente con vent'anni di distanza la stessa scuola a Roma al San Leone Magno e abbiamo avuto anche alcuni professori comuni questo è successo prima di conoscerci poi ero giovane giornalista seguivo per l'avvenire la democrazia cristiana è capitato spesso di andarla a intervistare e da lì è nato questo rapporto che poi tra l'altro è stato anche mio testimone di nozze ma parliamo ormai di parecchi anni fa tra l'altro voglio dire c'è una radice profonda il fatto che tu abbia scritto un libro sulla scomparsa del fratello Pier Santi che con la sua scomparsa tragica ha segnato la vita del nostro presidente Mattarella io ho scritto questo libro quando il presidente Mattarella era alla corte costituzionale cioè nulla potevamo ipotizzare in quel momento che sarebbe poi stato eletto al Quirinale mi sembrava giusto perché è un personaggio un grande personaggio molto importante nella storia italiana usciso dalla mafia con qualche implicazione forse di terrorismo di deviazioni e così via e fondamentalmente molto dimenticato pensa che ho scritto questa biografia 15 anni fa ed era la prima biografia del 1980 completa di Per Santi Mattarella e tra l'altro questa testimonianza incisa nella carta stampata in qualche modo poi ha rinsaldato ulteriormente ma questo non lo so perché siamo stati sempre amici non credo che la scrittura del libro possa aver influito particolarmente certo c'è il fatto che siamo stati insieme a Palermo per un po' di tempo ci siamo frequentati più del solito e quelle sono cose che lasciano un segno Giovanni, allora, questo libro L'amore non lo vede nessuno è un momento di discontinuità rispetto alla tua produzione letteraria ancorata a eventi davvero e realmente accaduti seppur romanzati però qui si parla di un tema universale l'amore sì, onestamente rappresenta forse un'evoluzione rispetto alla mia precedente produzione che erano romanzi storici cioè di storie realmente accadute poi romanzate questo è, come si direbbe oggi, fiction totale cioè non c'è alcun aggancio con la storia è una storia che si svolge ai tempi di oggi nel 2023, per capire, molto recente non è una storia d'amore solita, normale è una storia di un amore molto particolare che oscilla tra l'amore assoluto e anche l'amore tossico è la storia di una caduta e di un riscatto ed è raccontata un po' in forma di giallo non è proprio un giallo mi hanno chiesto una definizione le definizioni sono sempre scivolose però ci ho pensato un po' e la mia idea è di thriller esistenziale perché in realtà il giallo è un pretesto per raccontare e dare dei messaggi dare dei messaggi ho finito proprio ieri sera in zona Cesarini di leggere il libro e non bisogna spoilerare esatto, e questo è il problema e lo so, lo capisco io sorrido perché la difficoltà è di dire e non dire perché non si può anticipare e quindi però il libro inizia con un funerale di una ragazza scomparsa in circostanze misteriose la sorella, quella diciamo calma, tranquilla e posata vede una persona sconosciuta e da lì poi inizia tutto quanto e quindi non è facile riuscire a dire e non dire Ah sì, si può arrivare fino a un certo punto anche c'è nel risvolto di copertina questa ragazza come ha fatto un ottimo riassunto, complimenti quindi nota al funerale della sorella quest'uomo più maturo molto ieratico, molto sofferente non sa chi sia, chiede in giro lo vede il giorno dopo al cimitero mentre sta portando il papà sulla tomba che però quando l'uomo vede loro che arrivano si dilegua, riesce finalmente ad agganciarlo con uno stratagemma e lui si presenta dice che ha avuto una grandissima intensissima storia d'amore con la sorella ti stoppo io riservata, segreta ti stoppo io adesso però visto che con le parole hai molta dimestichezza con le parole e con i sentimenti perché secondo te amanti in italiano hanno un'accezione negativa mentre lo stesso termine in inglese lovers ha un'accezione positiva questione di linguaggio o modo diverso di vedere la parola? è proprio lì che volevo arrivare perché ne parla proprio il protagonista con la sorella della scomparsa quando la sorella gli dice ma voi come vi considerate? e lui dice ci consideriamo amanti nel senso vero della parola di persone che si amano che si sono amate anzi dice in Italia nell'italiano nell'italiano corrente questa parola ha avuto un'accezione negativa nessuno presenta la sua compagna agli amici dicendo ecco la mia amante dirà la mia donna la mia compagna la mia compagna la mia dolce metà la mia moglie la mia fidanzata in italiano amanti ha un significato solo di relazione clandestina la loro è una relazione clandestina perché l'uomo non vuole far sapere la sua identità quindi è una relazione segreta però diciamo lui accetta la condizione di amanti aggiungendo però anche questa forte connotato di amore amore assoluto allora questo libro è uscito il nove sta camminando da due giorni e sta camminando molto bene e questo ci fa piacere perché è merita merita a proposito di amore non credo di sbagliare se mi riferisco al presidente Mattarella che spesso nei suoi discorsi ufficiali usa la parola amore quando parla di uguaglianza dei popoli di immigrazione non ha timore di usarla anche quando parla di famiglia tra uomo e donna quindi è un verbo che declina in tutte le sue accezioni e immagino che sia stato il primo probabilmente a leggerlo allora in realtà no nel senso che gli ho consegnato una delle prime copie diciamo la numero tre che una ovviamente l'ho consegnata a mia moglie un'altra a mio figlio e la terza presidente e questo è successo due giorni fa gli ha detto e non so come faccia perché gli impegni suoi altro che i miei insomma e ha detto lo leggerò ti farò sapere ovviamente non starò lì a tirarlo per la giacca per sapere esatto Giovanni l'amore non lo vede nessuno regalatevi questo momento che ne vale la pena e chiediamo scusa al presidente della repubblica Sergio Mattarella se lo abbiamo come dire tirato in mano altre cose ben più importanti e meno male che è dove è grazie signor presidente e grazie a Giovanni Grasso l'amore non lo vede nessuno finalmente la letteratura gialla ha una nuova sfumatura quella dei sentimenti grazie a Giovanni Grasso per essere stato con noi grazie mille